I miei genitori che mi faccio più di verde, capito? Allora da che parte state voi? Da che parte state? Non ho 20 anni, non sono una studente, hai capito? Io sono una che ha 55 anni, non ve ne frega un cazzo, mi vuoi menare? Menami, vergognatemi, dovreste stare dalla parte di chi vuole la libertà. Non voglio vedere, io voglio andare, voglio andare a piri, io voglio andare a piri, guarda davanti, guarda davanti no. Cosa fai? Cosa fai? Ho tre piri e non riesco a dire. Componenti, componenti, componenti. Oh, oh, cortesemente. E' a Montanati, cortesemente. Non è stato attaccato. Oh, cortesemente. Grazie a tutti Grazie a tutti